I dati di oggi ci dicono che abbiamo 999 guariti, che porta il totale dei guariti a 10.361. Il bilancio è di 4.492, l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale dei positivi è 62.013. 33.648 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 3.612 sono in terapia intensiva. Abbiamo e registriamo purtroppo 662 nuovi deceduti. La cosa importante è che ci sia un rallentamento della velocità di incremento della curva. Sappiamo tutti che non possiamo aspettarci un'improvvisa diminuzione. Non è un'epidemia che nell'arco di 48 ore trova risoluzione. Dobbiamo osservare nei prossimi giorni sicuramente gli effetti delle decisioni che sono state prese, il distanziamento sociale e tutte le questioni che tutti ben conosciamo. Probabilmente stiamo già analizzando ovviamente... ... ... ... ... ...